Aprile 2010, sono le 16 e un quarto e anche il terzo giorno che via Verdi non viene spazzata e tra l'altro non è stata nemmeno ritirata la spazzatura della raccolta differenziata della plastica come possiamo notare, caro sindaco questa è la legopetra qui stiamo a via Verdi 23 e come puoi notare, caro sindaco le condizioni della strada ripeto, oggi è 23 aprile 2010 e ci troviamo via Verdi 23 macchina su questi scebedonali passaggio della chiesa Ciao Lello detriti sempre che rimangono sulla strada da mesi via Verdi civico 34 e con questo ho finito